Una delle figure più originali del pensiero spagnolo è indubbiamente Javier Zubiri, che è morto nel 1983. Un personaggio tra i più importanti, anzi, secondo alcuni, il più importante filosofo sistematico del Novecento, non solo spagnolo ma anche in qualche modo europeo. Io ho avuto l'avventura e la fortuna di conoscere e frequentare questo grande pensatore, soprattutto negli incontri seminariali, che sono stati davvero un'esperienza indimenticabile. E la ragione è questa. Io mi ritengo un cultore di filosofia. Zubiri, invece, era un filosofo. Incontrare un filosofo è molto diverso che coltivare la filosofia. Di questo complesso problema filosofico che ha affrontato Zubiri, io mi soffermerò su un solo tema, il tema antropologico, ovvero la visione dell'uomo. Che cosa pensa Zubiri dell'uomo? È un tema che è importante in quanto è uno delle riflessioni fondamentali che percorrono tutta la speculazione filosofica spagnola, potremmo dire appunto, come recita il titolo di un interessante libro, ecco, da Seneca a Zubiri. Il tema antropologico insieme al problema etico è il leitmotiv della riflessione spagnola. Ora, le riflessioni di Zubiri sul tema antropologico, che andrebbero situate alla luce della sua complessa evoluzione intellettuale, ecco, dicevo, le riflessioni di Zubiri permettono di rendere ragione dell'uomo in una maniera sistematica. E perciò egli indaga l'uomo nella sua costituzione essenziale quale sostantività psico-organica e formalmente in quanto realtà personale, nelle sue facoltà, con speciale riferimento all'intelligenza senziente, che qualifica l'uomo come unico animale di realtà, nella sua struttura morale, nelle relazioni sociali e comunitarie e nelle sue dimensioni, in modo particolare nella dimensione storica e soprattutto nella dimensione teologale. Più che dissolvere o risolvere l'antropologia nelle scienze positive ed umane, senza per questo sottovalutare il loro ruolo imprescindibile ma infine non esaustiva, l'attitudine di Zubiri si colloca, in connessione con la sua concezione della filosofia, in una prospettiva metafisica. Ovviamente è importante sapere che cose gli intende per metafisica. Metafisica all'interno della quale viene superata anche la dicotomia tra scienza della natura e scienza dello spirito, a partire appunto dall'instaurazione nella realtà, grazie al fatto che l'uomo ha l'intelligenza senziente. Perciò Zubiri, oltre ad indagare su che cosa è l'uomo a partire dal tipo di realtà che rappresenta, ha cercato di rendere ragione dell'uomo quale forma di realtà, praticando un'antropologia critica, non però nel senso kantiano, bensì prospettando un'antropologia realista. Vedremo in che senso egli intende il realismo. In sintonia con una metafisica dell'intelligenza, rivolta allo studio dell'uomo come unità strutturale, dispiegandosi unitariamente in molteplici dimensioni. Il superamento delle prospettive non false ma parziali, prospettive antropocentriche, biologico-evolutive e psicosociologiche, conseguono dall'originale approccio metodologico di Zubiri, che tende ad indagare, dal punto di vista metafisico, l'unità profonda che vincola i diversi aspetti del reale. Pertanto, più che praticare un metodo dilemmatico, out-out, Zubiri ha adottato un procedimento dinamico strutturale e integrale sistematico, teso al superamento dello schema soggetto-oggetto, esterno-interno, privilegiando appunto l'attitudine dialogico-personalistica, incentrata sulla categoria della domanda-risposta, nella consapevolezza che veramente reale è la relazione primigenia io-tu, la quale non rappresenta una posizione di estraneità e lontananza, la meta da conseguire, bensì proprio il punto di partenza. Il contributo di Zubiri all'antropologia è da ricercarsi proprio nella concezione personalista. Egli è un convinto personalista. Vedremo in che senso egli declina il personalismo, senza però avvallare alcuna svolta antropologica, dal momento che l'uomo è impiantato, come egli dice, nella realtà, la quale realtà costituisce l'oggetto formale della metafisica. La metafisica si occupa formalmente della realtà. Zubiri anzitutto sottolinea le irriducibili differenze tra l'uomo e l'animale, non solo perché questi, l'animale, risolve la sua vita nel rapporto con l'ambiente, ai cui stimoli risponde meccanicamente, mentre l'uomo lo progetta liberamente, ma soprattutto a causa dell'intelligenza senziente e del conseguente diverso rapporto con le cose apprese formalmente come realtà. L'ominizzazione è una potenzialità della materia che si rinnova intrinsecamente e dinamicamente per elevazione e dal punto di vista filosofico può essere attribuita tutto ciò a quello che egli chiama natura naturans. Grazie ad essa si attuano le potenzialità di elevazione anche del filum umano. C'è pertanto una sola genesi psicosomatica che i genitori trasmettono ai figli con gli alimenti germinali che produrranno la cellula germinale. Non si tratta di trasmettere dunque il corpo né la psiche, poiché questa è nell'unità della sostantività una nota del corpo, dal momento che si tratta di coerenza costitutiva per cui la psiche è nota del corpo e reciprocamente. La psiche o anima o comunque la si voglia chiamare non è dunque termine di trasmissione ma risultato della sistematizzazione degli elementi germinali nella cellula germinale. Sin dall'origine dell'embrione siamo già infatti in presenza di un sistema psico-organico potenziale, sicché il plasma germinale è costituito dall'unità tra psiche e cellula germinale grazie alla potenzialità di elevazione della materia, ovvero a ciò che egli chiama la natura naturans. C'è quindi una sola genesi psicosomatica che si trasmette dai genitori ai figli, non essendo l'uomo una stratificazione di componenti ma una unità intrinseca sostantiva. Giubiri distingo nel celebre libro sull'essenza tra sostantività e sostanza. Ne siamo dinanzi a quella riflessione sulla materia su di sé, come riteneva Hegel, protesa a generare la psiche, perché questa è generata solo per elevazione. Pur essendo radicale, non graduale la differenza tra l'uomo e l'animale, da ciò tuttavia non consegue una rottura, bensì una continuità nell'evoluzione, grazie all'elevazione dalla materia alla psiche. Tale elevazione, che è uno dei tipi di potenzialità della materia, termina nell'uminizzazione. Pur inserito nel filum evolutivo, l'uomo che si configura come una realtà del tutto originale nell'ambito dei viventi, grazie all'attitudine dell'intelligenza senziente, è come dicevo sostantività, cioè è unità intrinseca e strutturale di note costitutive autosufficienti. È sostantività perciò psicoorganica. L'uomo è dunque sostantività psicoorganica, orvero corporeità animata, non solo sul piano operativo, ma anzitutto a livello costitutivo, non solo a livello dell'operare, dunque, ma dell'essere, o meglio, dice Zubiri, della realtà. Perciò a rigore, egli non possiede l'uomo psicoorganismo, ma è unità psicoorganica. L'uomo apprende la realtà nella sua formalità grazie all'intelligenza senziente. Alla riforma dell'intelligenza, che è distinta dalla ragione, Zubiri ha dedicato importanti e originalissime riflessioni, che sarebbero fraintese se non fossero esaminati in connessione con l'altra opera fondamentale, appunto, sull'essenza. Non è luogo, ovviamente, per esaminare queste importanti riflessioni. Qui sottolineiamo brevemente che l'intellizione è un atto di apprezzione, la quale è un modo della stessa apprezzione senziente. Perciò non siamo dinanzi ad una psicologia dell'intelligenza, come avrebbe detto Piaget, né a una sociologia del sapere, bensì a quella che gli chiama la noologia, ovvero ad una descrizione dell'apprezzione umana, che è formalmente mera attualizzazione del reale nell'intelligenza senziente. L'apprezzione intellettiva è un atto nel quale si attualizza, cioè sta o rimane fisicamente presente la realtà nella sua formalità, nell'intelligenza senziente. Perciò i termini intellezione, reale ed intelligenza senziente, non sono sullo stesso piano. Perché l'intelligenza senziente ed il reale sono due momenti o poli nei quali l'atto dell'apprezzione umana si attualizza, cioè sta presente da sé a partire dalla propria realtà. Perciò l'attualità appartiene alla natura stessa di ciò che è in atto, ma non aggiunge né toglie né modifica alcune delle sue note reali. Non si tratta perciò dell'intellizione del sensibile e reciprocamente, perché la struttura dell'apprezzione non si dispiega in due atti numericamente distinti, sensazione e intellezione, bensì concerne due momenti o versanti di un unico atto, appunto l'intelligenza senziente. Pertanto l'intellezione è un modo di sentire e questo il sentire è a sua volta un modo dell'intellezione. L'apprezzione umana, che è qualitativamente diversa da quella animale, è un'impressione di realtà, poiché ci troviamo dinnanzi ad un'affezione reale, con un'alterità attualizzata come altera realitas, ed una forza di imposizione che contraddistingue la stessa forza del reale. In particolare, nell'apprezzione umana, l'alterità è il rimanere da sé di quanto è intelletto, trattandosi della formalità di realtà, che non è in sé per sé, pertanto indipendentemente dall'apprezzione, secondo quanto riteneva il realismo, sia ingenuo che critico. Ma è appunto il rimanere o essere fisicamente presente delle cose stesse. È ciò che Zubiri chiama l'attualità, distinta dall'atto. Quindi non è una filosofia dell'atto, perché altro è l'atto in Zubiri, altro è l'attualità. L'uomo, come dicevamo, è l'unico animale che apprende le cose come realtà, perché è l'unico animale iperformalizzato. Grazie a ciò, solo l'uomo è in grado di stare a distanza rispetto alle cose, anche se non senza di esse, il che gli consente di distinguere l'indipendenza tra segno e realtà e nel contempo di poter scegliere liberamente ed intelligentemente le risposte, a differenza dall'animale che le seleziona biologicamente e deterministicamente rispetto agli stimoli. Pertanto si può dire che l'animale è tutt'al più oggettivista, è il massimo a cui può arrivare, l'oggettivismo, giammai può diventare realista. In virtù dell'iperformalizzazione, che è il risultato di un processo morfogenetico, l'uomo ha l'impressione di realtà, mentre l'animale ha un'impressione di stimoli. Svaniscono così ogni opposizione tra sensazione e intellezione, anche se ancora distinguono il puro sentire dal sentire intellettivo. Ed inoltre ogni riduzionismo ed ogni dualismo, perché siamo dinanzi non ad una sintesi, come dirbbe Kant, ma ad un'attitudine strutturale, nel senso che l'impressione di realtà in quanto impressione è senziente, ma poiché è di realtà è intelligente, sì che l'uomo è l'unico animale di realtà. Ovviamente condivide tutta la parte animale e non potrebbe essere altrimenti, però è animale realista, mentre tutt'al più l'animale, come dicevamo, può essere oggettivista. Sentire perciò è in sé un modo di intellezione e questo è in sé un modo di sentire. Non esistono perciò, questo è molto importante per Giubiri, due facoltà, la sensazione e l'intellezione, ma un'unica facoltà, l'intelligenza senziente, che è composta dalle due potenze, quella del sentire e quella dell'intelligenza. L'unità dell'impressione di realtà è l'unico atto di una unica facoltà. La realtà sostantiva umana non è un sistema, che è un sistema, scusate, coerente, comporta formalmente un'unità processuale di realizzazione, dispiegantesi nell'apprensione, sentimento, evoluzione del reale, a differenza dell'animale nel quale l'unità processuale si dispiega nella stimolazione, nell'affezione tonica e nella tendenza. Ciò non significa ovviamente che quanto specifica formalmente l'animale, ma anche nell'uomo. L'uomo non dimentichiamo è animale di realtà, dunque ciò che c'è nell'animale c'è anche nell'uomo. Al contrario, appunto, è un momento intrinseco e costitutivo della realtà umana, grazie all'unità biologica del sentire. Perciò l'uomo, che è l'unico animale di realtà, possiede una forma e modi peculiari rispetto all'animale. In quanto forma di realtà, infatti, quella umana è non solo da sé, come tutte le realtà, ma inoltre è formalmente doppiamente sua, ovvero sta in sé stessa la realtà umana. Stando in sé stesso non si identifica con l'atto, né con una nota o sistema di note, ma è la forma della realtà umana in quanto realtà. L'essere doppiamente sua propria, a differenza delle cose che pure stanno in proprio, sono in proprietà, costituisce la radice formale e strutturale di ciò che si potrebbe chiamare la personeità. Mentre la personalità è ciò che diviene, si va forgiando e configurando nel tempo. La personeità, che è il carattere, come dire, identico, quello che non muta, non è intelligente e libera, né soggetto dei propri atti, neppure sossistente se previamente non è appunto sua propria, non sta appunto in sé stessa in modo doppiamente sua. Questo carattere è un carattere metafisico, dal quale dipendono quelli morali e quelli giuridici. Parimenti, a differenza della personeità, la personalità non è in primis la configurazione dei caratteri psicosociali, ma metafisicamente è la figura secondo la quale la forma di realtà si va modellando nei propri atti. In altri termini, come scrive Zubirio, la personalità si va formando nel corso di tutto il processo psicoorganico, perciò l'uomo è sempre identico, cioè personalità, anche se già mai è lo stesso, perché è personalità. C'è un momento appunto che non muta, è un momento nell'umano che muta, e qui che sono rispettivamente la personeità e la personalità. È superforo rilevare l'importanza di questa posizione, ad esempio per molte questioni, per esempio quelle bioetiche, che qui non mette conto di analizzare. se dal punto di vista della forma di realtà l'uomo è persona, ecco, e questo è il punto a cui volevamo pervenire, per quanto concerne il modo di realtà è un essere relativamente assoluto, cioè è sciolto rispetto alle altre cose reali, anche se inesorabilmente sta e vive in e con le cose reali, proprio perché deve realizzarsi. L'uomo non può fare a meno di stare nelle cose e con le cose, tra le cose e con gli altri, perché attraverso di esse si realizza. L'uomo però è assoluto, perché è suo proprio in conformità, in confronto ad ogni altra realtà possibile, però è un assoluto relativo, poiché tale modo di impiantazione assoluta è di carattere acquisito. Non è suo, gli è stato dato. Quest'essere relativamente assoluto sono io. Ecco, l'io è l'essere relativamente assoluto. L'io che cos'è? Chi è? È l'ultimità mondana della sostantività personale. L'io pertanto non è il soggetto degli atti umani, come sovente diciamo, bensì un modo di essere. Lungi dall'essere soggetto, osserva acutamente Zubiri, è predicato dei miei atti, dal momento che a rigore si dovrebbe dire questa realtà sono io. L'io è l'essere della persona e poiché assume una certa figura è personalità. La personalità è dell'io. Lungi dal configurarsi come soggetto logico-metafisico, e qui tutte le questioni intorno alla soggettività, o come posizione, idealismo, l'io invece per Zubiri è posto nella realtà, è impiantato nella realtà. Ecco perché non c'è nessuna svolta antropologica. L'uomo, la persona umana, ha molte dimensioni, due delle quali è utile qui analizzare molto brevemente. Una è la dimensione storica, l'altra è la dimensione teologale. Ecco, l'uomo e la realtà personale umana ha anzitutto una dimensione storica. È storia, anche se non si risolve nella storia, come direbbe il maestro Stega. La storia che cos'è? È la trasmissione di forme e di modi di essere nella realtà. Questa è la definizione che Zubiri dà della storia. Mentre la vita si trasmette geneticamente, tale forme di essere nella realtà si conseguono mediante la tradizione storica. La generazione è tuttavia il fondamento intrinseca della tradizione, sicché la storia può essere definita come tradizione tramandata, come principio di possibilità che pone nella realtà eventi quali possibili modi optativi di realtà. La storia, in quanto dimensione della realtà umana, non è formalmente temporale. Si danno infatti anche storie con tempi distinti, plurali ed indipendenti, ma concerne una figura con una precisa zona del tempo, la quale identifica un'età. Da questo lato la storia rifluisce sull'io, misurandone l'attualità etanea, mentre consegna all'individuo un potere di capacità o di abilità. Non è il luogo qui per affrontare la complessa questione della storia in Zubiri, a partire dal fatto che l'uomo è una realtà storica. E qui invece mette conto di accennare brevemente all'altra dimensione di cui abbiamo detto, cioè alla dimensione teologale. Teologale è distinto però da teologico in Zubiri. Che cos'è questa dimensione teologale dell'uomo? La persona si realizza, come abbiamo detto, nella vita, attraverso le azioni. Ecco cosa vuol dire realizzarsi. Le azioni delle quali l'uomo è attore, agente ed autore. Pur dovendo avere a che fare con le cose, come abbiamo visto, pur dovendo vivere in mezzo alle cose, l'uomo in ultima analisi però sta nella realtà. Di modo che le cose sono veicoli della medesima realtà, che assume così il carattere di fondamentalità, che negli aspetti di ultimità, possibilità ed imbellenza, mostra un'ambivalenza, dal momento che da un lato si configura come la radicale alterità rispetto a me, dall'altro è ciò che permette la mia realizzazione personale. Di qui l'emergere di profondi interrogativi e di inquietudini in ordine a tale fondamentalità, che non è causa, bensì, come dice Zubiri, è un potere, ovvero un carattere fisico e reale, è un potere, un potere della rispettività costitutiva della realtà in quanto tale. È il potere del reale, che si impossessa di me dominandomi, cioè agli antipodi del soggettivismo moderno, per il quale il soggetto legifera sulla realtà. È invece la realtà, al contrario, ad impossessarsi e ad impadronirsi dell'io. Non si tratta di una posizione solamente gnoseologica, bensì reale, della quale la conoscenza è solo una conseguenza. Il potere del reale è un appoggio a tergo, non tanto e soltanto per agire e vivere, ma anzitutto e soprattutto per essere reali. Perciò non andiamo alla realtà, al contrario, veniamo da essa. Ecco, questa originale riflessione sul potere del reale sarebbe molto importante qui affrontare, ma ovviamente sarà per un'altra occasione. Tale legame al potere del reale, che è un legame inscindibile, inesorabile, costituisce, secondo Zubiri, dal punto di vista metafisico, la relegazione. Noi siamo perciò legati alla realtà, è al suo potere, perché veniamo da essa, intanto andiamo alla realtà in quanto veniamo da essa. Ecco, siamo relegati alla realtà, siamo due volte legati. E qui bisognerebbe esporre la celebre teoria della relegazione. La relegazione è il cui oggetto formale non è la natura, ma la persona, o meglio, la natura personale. Inoltre, essa riguarda la totalità del reale, anche se solo nella persona umana, si attualizza formalmente. La relegazione, che rappresenta allora la radice della realtà e della mia realizzazione personale, nelle diverse forme che sceglierò, non è da confondersi o da identificarsi con l'obbligazione morale, né è un sentimento di dipendenza incondizionato. Nella relegazione, più che sottomessi, perché ci troviamo vincolati a qualcosa che non è istrinseco, ma che previamente ci fa essere, è noi siamo appunto legati. Perciò andiamo verso qualcosa che o ci si aggiunge come completamento o almeno ci perfezione. Nella relegazione, invece, non andiamo a, ma veniamo da. E se si vuole un andare, consistente non tanto in un compimento, quanto piuttosto in una sottomissione a ciò da cui veniamo. Intanto andiamo in quanto riconosciamo che siamo venuti. L'uomo consiste, ogni uomo, formalmente in relegazione. La radice di religione, come è noto, deriva proprio da relegazione, da relegare, religare, religio. Ecco, e qui dovremmo aprire un'importante discussione circa questo aspetto filologico, no? Ma Zubiri taglia corto. Certo, la filologia è importante, è il punto di partenza, ma non il punto di arrivo, per derimere grandi questioni metafisiche. L'uomo allora perciò è relegato dal punto di vista metafisico, da cui deriva religio, non religione. L'uomo perciò non può non avere religione, perché è relegato. La religione però non si basa sulla prassi, la relegazione, né sull'etica, né sul sentimento. Non è una proprietà che si può possedere o meno, bensì è quello che stavamo cercando, una dimensione formale della persona umana. Insomma, è un fondamento per realizzarsi. La relegazione si configura come esperienza, manifestazione ed enigma del potere del reale. E naturalmente da questa relegazione noi siamo spinti a cercare oltre, a cercare che cos'è quest'enigma di questo potere del reale. Ecco, questa è la ricerca ulteriore di questo enigma e ciò che appunto Giubbini richiama esperienza teologale.